Sirte è caduta. No, Sirte è stata riconquistata. Nelle ultime ore la guerra civile in Libia ha avuto un'accelerazione decisa con le forze del generale Haftar, l'uomo forte della Cirenaica spalleggiato da Russia, Egitto, Emirati Arabi e Arabia Saudita, in avanzata veloce verso ovest. Ieri sera il portavoce della sua milizia aveva annunciato la presa di Sirte, la città natale di Gheddafi, 370 km a est di Tripoli, sotto il controllo del governo di unità nazionale guidato da Al-Serraj. che stamattina ha lanciato una controoffensiva. Le forze di Tripoli hanno arrestato dozzine di prigionieri di guerra, sequestrato 20 mezzi e ucciso 50 persone tra i soldati dell'esercito di Haftar, fanno sapere fonti russe. Intanto a Tripoli sono arrivate le forze d'elite dell'esercito turco, avanguardia delle truppe che Erdogan ha deciso di mandare in soccorso di Al-Serraj. La situazione resta molto incerta, quindi, come incerta è la diplomazia, soprattutto quella europea. Vedremo se qualcosa si sblocca nel vertice straordinario in programma tra poco a Bruxelles. Con l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri Borrell, ci saranno i ministri degli esteri di Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia, appena annunciato di maio. Continuiamo tutti a ritenere che non esista alcuna soluzione militare e ne discuteremo oggi in sede europea. L'Unione Europea, questa volta, dimostri di saper fare l'Unione Europea, ha detto il titolare della Farnesina.